Buongiorno amici, ben trovati sul canale e quest'oggi torno a parlarvi di macchine da caffè, quelle per intendersi a capsule della Nespresso, nello specifico della Nespresso Inissia e della Nespresso Citiz, per spiegarvi un problema che può essere tanto comune quanto banale nella sua risoluzione, ovvero la lunghezza del caffè che andrà a erogare la macchinetta. Comunque queste macchinette, quelle per intendersi dotate di pulsante, tazza lunga e tazza corta, sono tarate di default, nel mio caso ho fatto più prove sia con il modello Inissia sia con il modello Citiz, tazza corta eroga il caffè per 8 secondi e poi si stoppa, mentre tazza lunga eroga il caffè per 18 secondi e poi si stoppa, questi sono i valori di default preimpostati dalla fabbrica, però ognuno ha i propri gusti, c'è chi la tazza corta lo vuole proprio ristretto, c'è chi la tazza lunga lo utilizza per farsi magari una tisana o un tè, insomma ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze e oggi velocemente andremo a vedere il modo per ritarare a vostro piacimento il tempo di erogazione della macchinetta che sia lunga o corto. Venite con me, che andiamo a vedere? Ecco qua le nostre macchinette, le ho messe vicine giusto per farvi vedere che il procedimento è il medesimo sia per una che per l'altra, cosa facciamo? Cominciamo con accendere le macchinette premendo su uno dei due pulsanti, non appena la macchinetta si è accesa, faccio le dimostrazioni senza capsule giusto per non dovermi bere 3 o 4 caffè uno dietro l'altro, come vedete c'è il caffè, dopo 8 secondi è andato a stopparsi in automatico, a questo punto se noi vogliamo modificare, vogliamo un caffè veramente ristretto, vogliamo che eroghi il caffè per 5 secondi, 6 secondi, insomma a nostra discrezione, cosa facciamo? Anziché premere e lasciare far far da sola la macchinetta, teniamo premuto in questo caso tazza corta, 1, 2, 3, 4, molliamo e come vedete la macchinetta è stata ritarata con un tempo di erogazione a nostro piacimento, stesso procedimento per la tazza lunga, default è impostata a 18 secondi di erogazione e anche qui in base alle dimensioni della vostra tazza o bicchiere e in base al vostro gusto sul quanto volete farla riempire più o meno, vi potete gestire la situazione senza alcun problema, ora vi faccio vedere che premendo sul tazza corta, adesso dopo 4 secondi andrà a spegnersi in automatico, 1, 2, 3, 4, vedete, operazione semplice e banale che però vi può risolvere un problema quotidiano, brevemente vi faccio vedere anche, prendendo un'altra tazzina con questa, l'impostazione default sono circa 8 secondi per la tazza corta e 18 per la tazza lunga, anche qui noi desideriamo un ristretto che sia veramente ristretto, teniamo premuto, contiamo fino a 4 o comunque fino a che la tazzina sia stata riempita a nostro piacimento e rilasciamo il tasto, 1, 2, 3, 4, come molliamo in automatico la macchinetta è stata ritarata a nostro piacimento e ora dopo tutte queste prove, finalmente mi godo un caffè vero anche io, perfetto, corto al punto giusto, cremoso al punto giusto, quindi niente, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto o quantomeno sia stato utile a qualcuno di voi per risolvere questo piccolo problemino, se così possiamo definirlo, se vi è piaciuto il video mettete un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e un saluto dal vostro MaxReview, buon caffè a tutti, a presto, ciao!